Un'opera abbandonata in passato e oggi riportata alla luce. Dedicarla alla professoressa Francesca Strazio, fa sapere il sindaco Francesco Di Feo, è stato un gesto spontaneo in memoria di una Trinitapolese che con grande umiltà ha guidato tanti ragazzi nello studio. A Trinitapoli per le famiglie non sarà più un problema trovare a chi affidare i propri figli, magari durante gli orari lavorativi, perché il nuovo agrinido comunale, così chiamato perché vede i piccoli alunni a stretto contatto con la natura, è stato già dato in gestione a chi potrà accogliere i bambini dal 0 ai 2 anni. Stiamo inaugurando quest'oggi l'asilo comunale, un agrinido che consentirà appunto alle famiglie di poter portare i bambini dal 0 ai 2 anni e quindi era un'opera che veramente era stata lasciata e abbandonata e che invece abbiamo terminato.